Rodrigo Rodrigo Scatta verso il pallone Jordi Alba Dani Sebaios Rodri Decide di sfruttare la fascia Alba Può crossare in aria Colpisce il pallone Contaggio di tre reti Potrebbe anche essere il gol della sicurezza La Spagna ha fatto un ottimo scambio Che ha mandato in tilt la difesa Splendida l'intesa dai giocatori Alcacer con questa rete Ha aperto il punto dei gol per questa stagione L'allenatore stava dando istruzioni sue in panchina E' venuto il momento di alterare la formazione Credo che questo cambio arrivi troppo tardi